Ciao amici di Kiko Kiko Kiko, siamo qui stasera per fare un nuovo tutorial e provare un nuovo tipo di trucchi, questo è il tipo di trucchi qua, tutti colorati, su queste ragazze, qui, ecco, posizionate il camere, ok. Allora, cominciamo spumando il fondo retinto. Kiko, ovviamente Kiko, Kiko un gatto, Kiko, spumiamo sulla faccia, Aspetta prima che avevo capito Ok, un momento che vi avevo capito Ha fatto un po' 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 Ma sono consente Ma è più difficile eeeh eeeh è molto vera caricchino io ti chiamo veramente stupiti non è capire com'nico non è più vero non è più vero non è più vero non è più vero Allora, cominciamo con questo qua, tipo un make up di foundation stone qui in casa. Allora, la faccia, così, così, aspettando. Sono un tecnologico nuovo, ovviamente. Sì, abbondante, che trucco. Lo che vedremo è la cinese. Sì, una torta. E lo spagnolo sulla faccia, così. Allora, tutto qua, tutto qua. Dove vuole, bella, ovea, sono bianca la faccia. Ecco, così. Ecco, fatta cosette, ecco. Dovendo, eh, 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 eh. E' spammato bene, e avere, abbiate l'accordizia. Vedete? Di questo modo non è spammato bene, quindi, facciamo ancora, da finire il nostro trucco, un tutorial. Ecco, 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 un trucco tutorial. Eh, 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 eh. E come capo, per noi, ci hanno dato dei prodotti veramente all'anguola, se viene il tipo. Quindi fatto questo, io mi sacco le mani, mi sacco le mani un attimo. Con l'acqua, Kiko. Eh, 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 eh. E, eh, eh, eh. Ecco, ecco. Ecco fatto, allora. Eccoci qua, passiamo direttamente al rosetto, perchè il trucco sarà la parte principale del nostro tutorial. Il rosetto applicato sulle labbra. Aspetta, aspetta! Allora, per questo punto noi passiamo all'applicazione dei nostri trucchi di cose. Prendiamo questo colore, prendiamo questo colore, prendiamo questo colore. Ecco qua. Ecco qua. Ottimo, ok? E questo colore va messo, lo mettiamo sugli occhi. Ecco qua. Facciamo così. E poi lo rifacciamo. Mi raccomando, il trucco è una cosa che nasce dall'interno, secondo le respirazioni che noi abbiamo. E in quel momento, dobbiamo toccare una persona. Ecco. Adesso per esempio, vogliamo mettere, non lo so, un altro esempio. Questa azzurra. Mamma mia. Non lo vogliamo mettere. Un po' qui arrivo. Ecco. Guardate, guardate le cose come si fonde qualcosa di superiore. Ok. 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 Perfetto. Guardate, ecco il colore superiore. Ecco quello che mi fonde. E come si fonde una flora. No? Eh, non lo so. Adesso cosa... Ecco, possiamo mettere il pennello. Ecco. Eh, eh. Come si usa questo? Ecco. Eh, eh. Questa è la pubblicità. Intanto facciamo la pubblicità. I prodotti. Fogli e promu. Questo non si chiamano. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. 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 Eh. Eh.